Passiamo all'interpellanza urgente numero 288 dei deputati Coppola ed altri concernente iniziative per sviluppare l'informatizzazione e la digitalizzazione per l'attuazione dell'agenda digitale, con particolare riferimento all'individuazione di un forte centro di coordinamento politico e all'emanazione dello statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Chiedo all'onorevole Bonaccorsi se intende intervenire me ha facoltà. I decreti legge numero 5 del 2012, numero 83 del 2012 e numero 179 del 2012 hanno dato avvio alla realizzazione dell'agenda digitale italiana in coerenza con le indicazioni della Commissione europea relativa all'agenda digitale europea. Il processo di attuazione dell'impianto normativo soprarichiamato si sta rilevando molto faticoso. Nessuna iniziativa infatti è stata presa ancora a partire dai decreti attuativi. I decreti attuativi che ci risultano sono 47 atti e ad oggi ne sono stati emanati solo 4 e in molti casi sono scaduti anche i relativi termini. Riteniamo noi invece che l'attuazione dell'agenda digitale mantenga intatto il suo valore di priorità strategica per il nostro Paese. Il Commissario europeo per l'agenda digitale parla e lavora ad un mercato unico digitale e ci dice, ce l'ha ricordato qualche giorno fa, che l'Europa non può più aspettare, che l'Europa è più lenta rispetto al resto del mondo. Noi crediamo che neanche l'Italia possa aspettare. Infatti le rilevazioni di numerose istituzioni internazionali confermano il potenziale impatto economico dello sviluppo delle misure previste dall'agenda digitale. Gli studi della Banca Mondiale evidenziano come un aumento della percentuale di diffusione della banda larga di 10 punti possa generare un aumento di 1,2 punti percentuali del prodotto interno lordo nelle economie dei Paesi sviluppati. Nel nostro contesto, nel contesto italiano infatti, ci appare particolare urgente una politica di promozione della banda larga, ma della banda ultra larga, non della banda larga. Infatti sappiamo bene che nella banda larga mobile il nostro Paese è messo abbastanza bene, supera nella media più o meno di 11 punti rispetto alla media europea. Nella banda larga di base, quella di 2 mega, arriviamo quasi a una copertura del 100%, siamo al 95-96% di copertura del territorio nazionale. Tant'è vero che anche gli ultimi bandi regionali che sono stati emanati qualche settimana fa, quelli di Lazio, Marche e Liguria, parlano comunque, prevedono i lavori per la banda larga di 2 mega. Noi invece parliamo e poniamo l'attenzione, richiamiamo l'attenzione del Governo sullo sviluppo della banda ultra larga, quella che arriva ai 30 mega. Il direttore del Dipartimento delle Comunicazioni, il dottor Sambuco, qualche giorno fa, in un'intervista, ci parlava appunto di una copertura della banda larga 2 mega per la totalità del territorio nazionale alla fine del 2014. Su questo però riteniamo che si debba concentrare l'attenzione sullo sviluppo della banda ultra larga. Banda ultra larga che però deve avere a fianco la realizzazione anche delle reti in fibra ottica e dei sistemi di trasmissione wireless, a partire dal sistema che appare ovviamente oggi più promettente, quello dell'LTE. Ora, l'LTE dovrebbe essere agevolato fondamentalmente da una razionalizzazione dello spettro frequenziale. Dobbiamo infatti da quel punto di vista sollecitare il Governo in questo senso perché si debba porre definitivamente ordine allo spettro, allo spettro frequenziale italiano, per aprire all'uso di quelle frequenze della banda 700 UHF, cioè i canali 57-60, che sono quelli preziosi per l'LTE. Per liberare le frequenze UHF destinare al broadband mobile e non alle frequenze televisive queste frequenze, tant'è vero che da questo ne dovrebbe appunto discernere e derivare la sistematizzazione invece delle frequenze VHF da destinare a quelle televisive. Ora, da questo ne consegue anche la preparazione della partecipazione, la buona partecipazione accurata, alla conferenza mondiale dell'Agenzia Internazionale del 2015, quella che pianifica le politiche future dello spettro. sempre in armonizzazione appunto con le politiche europee, altrimenti ci ritroveremo per l'ennesima volta come il Paese che non è credibile rispetto agli impegni internazionali che vengono presi sulle politiche future dello spettro internazionale. Riteniamo poi anche fondamentale la promozione dei sistemi wireless che richiede un ripensamento della disciplina legislativa in materia di tutto quello che è il sistema wireless. La soppressione fondamentalmente per gli esercizi pubblici e i circoli privati dell'obbligo di licenza da parte della Questura per l'installazione di zone Wi-Fi e dell'obbligo di monitoraggio dell'accesso alla rete. Gli obblighi che, come sappiamo, erano previsti nel decreto legge numero 144 del 2005, cioè il cosiddetto decreto pisano e soppressi con il decreto legge numero 225 del 2010, ma che non sembra aver prodotto in termini di diffusione di tale tecnologia i risultati sperati e soprattutto i risultati comparati con i risultati che si sono avuti nel resto del mondo. D'altra parte, l'ampia diffusione del Wi-Fi libero è un valore aggiunto per tanti settori strategici del nostro Paese, a cominciare da quello dell'offerta turistica, ovviamente. Quindi chiediamo davvero che si attuino tutte le misure necessarie a far sì che diventi fondamentale e operativa la diffusione del Wi-Fi libero. Inoltre, un altro aspetto dell'agenda digitale suscettibile dei notevoli sviluppi è rappresentato dalla messa a disposizione da parte dell'amministrazione pubblica dei propri dati in formato aperto e del loro riutilizzo, sviluppando le misure già previste dall'articolo 9 del Decreto-Legge 179 del 2012. In particolare, anche qui, è di fondamentale importanza prevedere che gli stessi sistemi informativi che elaborano i dati all'interno delle pubbliche amministrazioni vengano modificati per aggiungere la funzionalità di esportazione automatica su Internet, in modo da evitare che l'obbligo alla trasparenza dei dati in formato aperto si trasformi in un enorme sovraccarico per i dipendenti della pubblica amministrazione. Ad oggi, infatti, assistiamo a banche dati nel nostro Paese che non si parlano, a complicatissime procedure informatiche e a principi di open source che sono oggettivamente sconosciuti. E all'alba del terzo millennio siamo ancora un Paese in cui non facciamo altro che fare file e file. Quindi, per tutte queste considerazioni, chiediamo quali siano le iniziative urgenti del Governo per assicurare una più rapida attuazione dell'agenda digitale, a partire dall'emanazione dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale e soprattutto per la sua definitiva operatività. E quali siano i motivi a parere del Governo per cui, nonostante da molti anni, le forze politiche siano tutte concordi nell'affermare che l'informatizzazione e la digitalizzazione siano di fondamentale importanza per il nostro Paese. Questo abbia accumulato, però, un enorme ritardo rispetto agli altri Paesi europei. Cerchiamo di fare, quindi, dell'agenda digitale uno strumento davvero operativo e strategico, capace di far davvero cambiare passo al digitale nel nostro Paese. Se davvero, come dice la già citata commissaria europea Creus, la banda larga è la spina dorsale dell'economia del domani, ma soprattutto è l'infrastruttura essenziale per il futuro, chiediamo al Governo di essere determinati a costruire un Paese che vada davvero in questa direzione. E, infine, se il Governo non intende individuare a fronte dell'organismo tecnico dell'Agenzia un forte centro di coordinamento politico per l'attuazione dell'agenda digitale, superando il coordinamento debole rappresentato dalla cabina di regia. E se non si ritenga che, in considerazione del carattere strategico e trasversale rispetto alla competenza dei singoli Ministeri dell'agenda digitale, tale centro di coordinamento debba essere individuato in apposite strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Grazie.